Le iniziative artistiche al tempo dell'emergenza coronavirus, anche legate alla Settimana Santa in corso. Ecco il video di AC Versate Lacrime a cura dei 4 on 6 Band e della Casa del Musical di Agrigento. All'opera Marco e Fausto Savatteri, Massimiliano Rizzo, Martina Di Carro, Martina Aloisio, Sabrina Spampinato, Gabriel Glorioso, Gerlando Chianetta, Chiara Lofaso e Andrea Vincenti. La Settimana Santa in corso. 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 La Settimana Santa in corso.